Con questo video tutorial faremo vedere come scegliere le gradatorie di interesse secondo la fascia e il tab di riferimento e l'inserimento dei titoli di eccesso. Teniamo conto che il candidato aspirante alle supplenze potrebbe anche inserirsi in più gradatorie e anche in gradatorie di diversa tipologia. Potrebbe scegliere laddove ha un'abilitazione una prima fascia e poi scegliere anche una seconda fascia per altre classi di concorso dove non è abilitato. Dunque facciamo vedere ad esempio l'inserimento di alcune gradatorie rispetto ai titoli che l'aspirante potrebbe avere. Per accedere vedete questo asterisco indica che questa sezione è obbligatoria tra l'altro fatela come prima diciamo opzione di compilazione della domanda anche perché altrimenti il sistema vi darà difficoltà per poi compilare le altre e soprattutto la scelta delle sedi delle gradatorie di istituto perché se non si inseriscono le gradatorie è chiaro che poi nelle sedi di gradatorie di istituto non potrete trovare nessuna gradatoria per inserire le 20 scuole. Allora andiamo su azioni disponibili facendo clic su azioni disponibili e quindi accedi si entra su una pagina dove potete inserire le gradatorie. Vedete avete un segno più con aggiungi gradatoria. Fate clic su questa icona, su questo tasto e vi comparirà la possibilità con un menu a tendina di scegliere il tipo di gradatoria. Guardate avete 10 opzioni, il tab 1, il tab 2, il tab 3, il tab 4, il tab 5, il tab 6, tab 7, tab 8, tab 9 e tab 10. Ogni tab è riferito a una tipologia specifica. Per esempio il tab 1 è riferito a chi vuole inserirsi avendone titolo nella primaria o nell'infanzia, nella scuola dell'infanzia e primaria prima fascia, cioè con titolo abilitante, ovvero sia per esempio con un diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002 oppure con una laurea in scienze della formazione primaria conseguita anche l'anno scorso oppure da conseguire, in questo caso entrerebbe con riserva entro il 20 luglio 2022. Allora facciamo l'esempio di una persona che può inserire, perché ha un diploma per esempio magistrale ante entro il 2001-2002, può inserirsi in questa gradatoria. il tipo di classe di concorso può essere o l'infanzia o la primaria. Facciamo per esempio la primaria. Ecco che si aprirà una sezione chiamata sezione A.1 per inserire il titolo di eccesso. Abbiamo detto che abbiamo il diploma magistrale, titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002 al termine di corsi quadriennali oppure quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale entro il 97-98 aventi i valori di abilitazioni eccetera. Dunque cliccando in questo valore qui, questo tipo di titolo si avrà, ci si inserirà nel questo titolo di eccesso, che comunque deve avere una data di conseguimento e siccome abbiamo detto che questa data di conseguimento deve essere riferita entro il 2001-2001, allora scegliamo per esempio il giorno del diploma, il 10 di luglio del 1999, abbiamo così che la persona e istituzione presso cui è stata conseguita il titolo, istituto magistrale Tommaso Gulli di Reggio Calabria. Ecco, così facendo si è inserito data di conseguimento e titolo di eccesso. Poi la votazione del titolo dell'accesso, all'epoca la votazione era in sessantesimi, poi verrà, diciamo, commutato in centesimi, diciamo 54 sessantesimi. Ecco che viene commutato. Chiedo di avvalermi del punteggio di 8 punti, questo solo se il titolo di accesso fosse privo di, diciamo, di voto. La sezione A2, il dettaglio di accesso alla gradatoria, diploma magistrale, si è conseguiti entro il 2000-2001 scuola primaria. Si clicca qui e si fa inserisci. Ecco che è inserita la classe di concorso. Poi ammettiamo di avere invece un titolo di laurea per entrare con i 24 CFU per entrare nel tab 4, cioè in una seconda fascia. Si sceglie la classe di concorso e mettiamo che abbiamo una laurea in ingegneria elettronica, dunque, che dà l'accesso alla 041. Mettiamo la 041 e vediamo che tipo di accesso è la gradatoria relativa. Titolo di studio che costituisce il titolo di accesso alla specifica classe di concorso con laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, diploma, ecco, si può inserire tranquillamente questo tipo di titolo. Titolo di studio conseguito può essere, per esempio, una laurea in ingegneria elettronica. Conseguita, facciamo che l'abbia conseguita il dicembre 2021, il 10 dicembre 2021, presso Università per gli studi di peggio calabria. Oppure vi mettiamo Tratano per cambiare. Votazione di titolo di accesso 110 su 110. Se c'è la lode, si clicca il valore della lode. Non c'è un titolo congiunto. E poi vediamo che con la categoria di appartenenza si deve inserire un riferimento previsto dall'articolo 3,9 della lettera B dell'OM sull'aggiornamento del... e dunque si deve scegliere una di queste tre opzione. Poiché siamo in un nuovo inserimento, la categoria di appartenenza come previsto dall'articolo 3,9 della lettera B, lettera I dell'OM 112 del 6 maggio, potrebbero essere, per esempio, i 24 CFU, cioè il possesso dei titoli di cui è l'articolo 5,1 o 2 lettera B del decreto legislativo 59-17, che come vediamo è proprio i 24 periodi formativi universitari o accademici denominati CFU o CFA acquisiti in forma curriculare e che rappresentano gli ambiti antropsico-pedagogici e le metodologie e tecnologie didattiche. Allora, in tal caso, avendo questo, si clicca qui Allora, in un'audita di non...